La maggioranza che sostiene la giunta comunale perde un altro pezzo. Così come era capitato con i consiglieri di Bassano Congiunta, Francesco Fantinato, già capogruppo del PD, da ieri sera valuterà il proprio voto caso per caso. Un annuncio diffuso tramite un comunicato che ha colto di sorpresa anche il segretario del partito, Giovanni Reginato. Il giudizio di chi la maggioranza continua a sostenerla è severo, soprattutto perché a spingere Fantinato ad uscirne è stato il voto che ha portato gli oneri di urbanizzazione per i parcheggi dei centri commerciali e direzionali al 100%. Non esiste un uso capione del Consiglio Comunale, bisogna anche sapere accettare le decisioni, anche se sono contrarie, mi sembra un po' un attesamento un po' testarlo su questa delibera, che mi sembrava chiarissima. Quella sugli oneri di urbanizzazione è stata una battaglia combattuta anche all'interno del Partito Democratico e vinta in una votazione notturna del Consiglio Comunale dall'assessore Beraldin, secondo il quale l'uscita di Fantinato porterà più chiarezza nel partito. Sì, all'interno del partito sicuramente ci sarà meno possibilità di trovare motivo di scontro sostanzialmente, perché sicuramente in passato questo c'è stato. Per le opposizioni resta però il dato politico di una maggioranza composita le cui contraddizioni condizionano l'amministrazione della città. Non solo negli ultimi mesi, io credo che siano anni che si trascina questa situazione e ultimamente con l'uscita del gruppo di giunta, diciamo, dalla maggioranza e anche di Fantinato, sembra che siamo all'epilogo finale. Il fatto è che rimangono pochi mesi alla fine del mandato e non so se riusciremo a staccare la spina a questa amministrazione, che ha deluso moltissimo i bassanesi. Grazie a tutti.